Sostenere i settori oliario e cassanicolo con parti importanti per le aree interne sollecitando un intervento del Governo centrale. È l'obiettivo della nota che il Consigliere regionale Sandra Lonardo ha inviato al Governatore Stefano Caldoro, ribadendo la necessità di mettere in campo al più presto un intervento riparatore, oltre che urgente, a favore delle aziende olivicole e cassanicole della nostra Regione, duramente colpite lo scorso anno da singolari condizioni meteoclimatiche, dall'invasione di parassiti e dalla conseguente scarsità di raccolto. Lonardo infatti ricorda di aver proposto il 5 novembre scorso un ordine del giorno sul tema dell'emergenza Oliveti, documento sostenuto e sottoscritto da tutti i gruppi presenti in Consiglio regionale. Il Governo regionale è stato così invitato ad avviare ogni iniziativa utile a sostegno dei coltivatori diretti e delle aziende agricole danneggiate, in particolare quelle del Sannio, dell'Irpinia e di tutte le altre aree interne della Campania. Di qui l'ospicio del Consigliere regionale che le istituzioni si mobilitino per fronteggiare con interventi urgenti e significativi una crisi che rischia di provocare incalcolabili danni sociali, oltre che economici.